allora buongiorno a tutti ora faccio un sondaggio è giusto che la juve sia uscita ieri sera sì o no allora stasera c'è l'atalanta e la roma andatemi i risultati esatti vediamo a franzo oggi alle ore 13 ci sarà il pienone tutto esaurito full house volevo dirvi che domani sera alle ore 21 c'è la bobo tv sempre su twitch parleremo di roma ciao pippo di roma di atalanta e di juventus grande pippo poi volevo dire anche una cosa che questa non è serie b è un campionato incredibile possono venire su 6 sempre squadra sono tutte lì a 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